Musica Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale Io sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video Siamo in un nuovo episodio di Saints e a Soldier Soul E ragazzi molto probabilmente siamo nel penultimo episodio O forse l'ultimo episodio della serie Quindi ragazzi vi invito subito a lasciare un bel mi piace Cerchiamo di arrivare ovviamente a 60 mi piace per questo nuovo video Quindi ragazzi iniziamo subito con l'episodio Non c'è il nostro episodio di Sant'Ericchia Non c'è il nostro episodio di Sant'Ericchia No c'è il nostro episodio di Sant'Ericchia No c'è il nostro episodio di Sant'Ericchia No c'è il nostro episodio di Sant'Ericchia C'è il nostro episodio di Sant'Ericchia Non c'è il nostro episodio di Sant'Ericchia No c'è il nostro episodio di Sant'Ericchia Spera! Spera! Spera è Spera! Spera non è. Spera non è. È stato un'occhiaire di come la mia parte della storia del mondo. È stato un'occhiaire di più che conoscenza. Spera che conoscenza? Ma cosa è la prima cosa? Ma cosa che ciò che ciò che arrivano qui, come è venuto? Spera. Il secondo anno è il mio amore, il mio figlio di Fiknos, che ha aveva il carico di lui di fare lui. B.. Oh.. ma che... Cosa o io dicerlo! Purtro di qui... Oggi... Mostly.. non ci stai capire. Cosmo che si mora a conoscere, vi faccio un poeta! Ok, iniziamo subito questo episodio alla grande Infatti stiamo affrontando Thanatos Dio della morte, non voglio sbagliarmi Uno era della morte e un altro non me lo ricordo più nemmeno di cos'era Allora, intanto ragazzi, dico che ha un'armatura fantastica E' davvero bellissima Spero sinceramente che, non lo so, in qualche modalità o forse nello scontro libero ci facciano utilizzare Thanatos Perché sicuramente cercherò di portarvi qualche altro gameplay ovviamente a serie conclusa Con dei personaggi che non abbiamo mai usato O meglio, dei personaggi fighissimi che non vedevamo loro ad utilizzare Ad esempio vorrei provare a riportarvi qualche gameplay con l'armatura di Odino Qualche gameplay con l'armatura d'oro Ovviamente quella del Sagittario, poi non so se ce n'è qualcun'altra Che dovremmo sbloccare fra pochissimo Comunque, stai fermo un attimino e beccati sta attacco Big Bang Ok, e quindi Thanatos l'abbiamo quasi fatto fuori E ecco qui, Thanatos vattene a sbattere nella colonna E quindi concludiamo lo scontro Grazie a tutti 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Dai, manca davvero pochissimo, Sirio. Non molliamo. È colpo segreto del drago. Vediamo niente da fare. Mamma mia, dai, un calcione. No, non possiamo farci beccare così. Attenzione, Sirio. Attenzione, Sirio. Attento, scappiamo calcio. Mamma mia, raga. Riusciamo a batterlo. Meno male. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!